Approvata ieri dalla Regione Puglia la graduatoria provvisoria dei candidati ammessi con riserva al concorso per le sedi farmaceutiche, la graduatoria è in via di pubblicazione sul Burpi, il bollettino ufficiale regionale. Lo ha reso noto l'assessore al welfare Elena Gentile e sono pervenute 1.958 candidature, singole in associazioni, per un totale di 3.611 persone. Sono state ammesse con riserva 1.941 candidature pari a 3.590 persone. Nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Burpi della graduatoria provvisoria, i candidati potranno consegnare eventuali richieste motivate, documentate di rettifica del punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice. Tra le prime in Italia, la Regione Puglia, ha sottolineato l'assessore, segna il primo passaggio amministrativo che consentirà, appena concluse le procedure, di assegnare le sedi farmaceutiche messe a concorso. La Puglia, dunque, conclude la Gentile, offrirà ad una platea di 188 tra professionisti singoli o in associazione la possibilità di conseguire l'obiettivo della propria realizzazione professionale, dando risposta nel contempo alla domanda dei cittadini pugliesi di servizi sempre più diffusi sull'intero territorio regionale.